Roma. Nell'insigna Accademia di San Luca mostra di 57 disegni di Vincenzo Gemito o scultore pazzo. Queste opere vanno dal 1872, quando Gemito aveva 20 anni, al 29, vigilia della sua morte. La bambina addormentata dà un'idea della graffia dell'artista. Ecco anche il putto, mentre i suoi contemporanei cercavano gli avvolgimenti atmosferici dell'impressionismo. La zingarella, ripetutamente studiata, trascende il bozzetto verista, diventa personaggio. Figlio inconsapevole della Grecia antica fu definito Gemito. Il suo estro giocava con le immagini. Ecco una figura uscita dai contorni della Sicilia. Il naso schiacciato della figlia Giuseppina si collega a violente manifestazioni paterne. Autoritratto giovanile, il padre putativo posò per il filosofo.